La creazione della Coppa Maremma by Serraiola e Coppa Maremma Golf by Serraiola Wine, 18 buche, steppe con le due categorie che aveva discutato oggi. I premi sono stati gentilmente offerti dall'azienda agricola Serraiola di Fiorella Lecci di Monte Rotondo Marino e dal Maremma Golf Club di Grosset. Molto bene, molto bene. Tra l'altro di va. Alli signori Menzi Arianna e Romanelli e Lisa che sono qui presenti. Una pallina che serve dal maestro. L'altra signora presente, la consigliamo. Maestro vogliamo dire le parole, un ringraziamento o andiamo avanti? Andiamo avanti qui, con la prenazione. Io vorrei ringraziare soprattutto prima di tutto i partecipanti alla gara. e lo spiega il vostro reputato è una persona del consigliere Cruciani, per l'ospitalità, per l'ospitalità e per l'ospitalità, per l'ospitalità e per l'ospitalità. E tutto il personale anche che si adottara per il mio congiore del dottore della gara. Bravo. Primo nella categoria Signores, Renato Cruciani con 33 punta. Eh, molto bene, molto bene. Renato, ho la foto, aspetta, faccio la foto. Perfetto, vai. Prima nella categoria Signore, Lucia Margheri con 32 punta. Brava, ma è partita, è partita. Nella seconda categoria, handicap di gioco da 21 al 36, secondo netto, Valerio Fascini con 35 punta. Bravo, Renato. Sì. Là. Perfetto. Prego, prego. E primo netto di seconda categoria, Mario Cavallaro con 36 punti. Mario. Ciao, 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 passi. Nella prima categoria, handicap fino a 20, secondo netto, Daniele Gironi con 36 punti. Bravo. Primo netto di prima categoria, un grande ritorno, Roberto Santinelli con 36 punti. Bravo. 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 Grazie. Ok. E primo nel mondo, Costantino Totis con 26 punti. Bravo. Grazie, grazie. Grazie. Perché per ora ha fatto una fregge nel 20 di aprile. Ha vinto tutti, è legato. No. Grazie. Costantino. Ok. Grazie. Grazie. Grazie.